Atalanta-Inter, quindicesima giornata di Serie A, l'ultima giornata prima della maxisosta per il Mondiale. Un'ultima giornata molto significativa per l'Inter perché si trova ad affrontare due grandi ostacoli di questa prima parte di stagione. Un avversario forte in un big match, finora sono stati persi tutti i big match che l'Inter si è trovata sul cammino fino ad ora, e una partita in trasferta che, accoppiata al big match, diventa un mix letale. Dall'Inter quindi ci aspettiamo grandi risposte, ce le aspettiamo perché contro il Bologna mercoledì è arrivata una vittoria molto rotonda, un 6-1 senza particolare storia. Adesso serve chiudere questa prima parte di stagione non particolarmente positiva con una bella vittoria contro l'Atalanta in modo tale da vivere una sosta mondiale un po' più tranquilla e poi aprire al rientro del campionato contro il Napoli con un filo di tranquillità in più e un filo di pressione in meno. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, nuovo contenuto, oggi vediamo insieme che tipo di squadra è l'Atalanta, le probabili formazioni del match, tutte le informazioni di servizio consuete e vediamo che tipo di partita aspettarci. Prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace al contenuto se questo format vi piace con un'analisi dell'avversario che andremo ad affrontare nelle ore successive e soprattutto un'iscrizione al canale così domani che ci sarà come al solito la diretta di Passione Inter per la partita non ve la perdete, se attivate anche la campanellina vi arrivano anche le notifiche e siete sicuri di non perdervi nessun aggiornamento. Cominciamo subito con brevissime informazioni di servizio e poi andiamo sull'Atalanta. Allora, l'arbitro di Atalanta-Inter sarà Kiffi che quest'anno ha un solo precedente con l'Inter, un precedente non positivo, il derby contro il Milan, perso per 3-2, mentre il VAR sarà Di Paolo. Dove vedere Atalanta-Inter? Come tutti i lunch match del campionato italiano, la gara che inizierà appunto alle 12.30 di domenica 13 novembre sarà visibile sia su Dazon che su Sky. Però vi ricordo, sia per chi dovesse avere un abbonamento a una di queste due TV, sia per chi non ce l'abbia, vi ricordo che dalle ore 11 e 15 sul nostro canale YouTube ci trovate in diretta, io, Lorenzo, pre-partita, cronaca della gara e post-partita da vivere tutti insieme. Quindi vi ricordo ancora di iscrivervi al canale. Queste le informazioni di servizio molto generali. Ora, le probabili formazioni di Atalanta-Inter. Ve le mostro a partire dal sito della Gazzetta dello Sport. Per chi ci segue su YouTube vi condivido lo schermo. Allora, eccoci qua. Probabili formazioni Atalanta-Inter. Due squadre che giocano in maniera quasi speculare. L'Atalanta con il 3-4-1-2. Musso in porta, Toloi, Demiral e Scalvini in difesa. Attebur, Ederson, Copminers e Mele a centrocampo. Pasalic alle spalle di Zapata e di Lukman. Questo è il probabile undici di Gasperini. Dall'altra parte l'Inter risponde con Onana in porta. Dunfri, Skriniar a cervi e bastoni in difesa. Dunfri, Varella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo. Gieco e Lautaro in attacco. Inzaghi dovrebbe schierare i migliori undici possibili fra quelli che ha attualmente a disposizione. Ricordiamo che all'Inter mancano D'Ambrosio, D'Armian e soprattutto Romelu Lukaku, che ancora non abbiamo avuto e che vedremo quando prima o poi potremo riavere. Dicevamo quindi due squadre che giocano in modo speculare. Anche l'Atalanta ha qualche assenza. In particolare Muriel, che non dovrebbe essere della partita, e anche Derun, che si è fatto male nell'ultima partita disputata dalla squadra di Gasperini. Un'Atalanta che è cambiata molto nel corso di questa stagione e che personalmente ritengo essere attualmente una delle squadre più affascinanti della Serie A. Proprio per questa ragione. E quindi veniamo anche a che tipo di partita aspettarci. Ora, l'Atalanta, vi stavo dicendo, è una squadra che è cambiata molto. È nelle mani di Gasperini ormai da tantissimi anni, però quest'anno per la prima volta ha abbandonato alcuni dei suoi principi di gioco più classici per invece proporre un calcio un pochino diverso, ma ugualmente efficace. Tant'è vero che dimostro la classifica dell'Atalanta. L'Atalanta è stata a lungo, ha i primissimi posti, prima e seconda in classifica in questa prima fase di stagione. Attualmente si ritrova a sesta, però ha pari punti con l'Inter e ha soli tre punti di distanza dal secondo posto, attualmente, della Lazio e del Milan. Un'Atalanta che non arriva da un momento felicissimo, perché nelle ultime cinque partite ci sono state tre sconfitte, anche se due contro squadre forti come la Lazio e il Napoli. L'ultima però in casa del Lecce, nonostante la gara sulla carta potesse essere, o apparire facile, l'Atalanta ha fatto tanto turnover, forse anche nell'ottica di risparmiare qualche titolare per l'Inter, e è caduta per 2-1. A livello di numeri, otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, venti gol fatti, dodici gol subiti. L'Inter ne ha invece trentuno fatti, ma ben venti subiti. Segno di un'Atalanta che segna un pochino meno, magari rispetto al solito, però a livello difensivo è un po' più compatta. Veniamo quindi a che tipo di squadra è l'Atalanta di questa stagione. L'anno scorso è stata una delle stagioni peggiori dell'Atalanta di Gasperini, è arrivata ottava in classifica, rimanendo fuori da qualsiasi qualificazione per le Coppe Europee, ha fatto solo 65 gol e ne ha subiti 48, record negativo dell'era Gasperini. Quest'anno, anche complice è una rosa che ha perso comunque dei punti di riferimento, ha perso anche dalla qualità rispetto agli anni precedenti. Gasperini ha fatto qualche piccolo cambiamento e qui dico subito una cosa forte. So che Gasperini, da noi tifosi interisti, non è visto bene, per la parentesi, peraltro molto breve, che ha vissuto qui a Milano. Personalmente lo ritengo uno dei migliori allenatori in Italia, e forse non solo, e con l'Atalanta di quest'anno lo sta dimostrando. A livello offensivo continua ad avere un ruolo chiave Duvan Zapata, che è uno dei pochi, diciamo, della rosa dell'Atalanta, che si trova perfettamente a suo agio nel giocare all'interno dell'area di rigore, e questa è una cosa che Gasperini l'anno scorso ha fatto presente, perché l'anno scorso Zapata è stato fuori a lungo per infortunio. Gli altri giocatori offensivi, Muriel, Marinovski, Bogà, lo stesso Lukman, che è arrivato quest'anno, sono meno a loro agio, tra virgolette, in area. Magari ci vanno con gli inserimenti, ma in linea generale, ecco, Zapata, se vogliamo fare un paragone, è molto simile a Romelu Lukaku, che però nell'Inter purtroppo non è disponibile. L'attacco al secondo palo rimane una delle soluzioni preferite dell'Atalanta di Gasperini, nonostante nel corso della scorsa stagione non abbia mai avuto, prima per infortunio e poi perché è stato venduto, forse l'uomo più bravo in questo fondamentale, che è Robin Gosens, che curiosamente oggi è all'Inter, ma trova comunque poco spazio. Però anche con magari qualche dinamica un po' diversa rispetto alle scorse stagioni, l'attacco al secondo palo con il famoso cross da esterno a esterno rimane una delle armi prioritarie. L'attacco dell'Atalanta, al netto di Zapata, di cui parlavamo, ha però degli uomini molto, diciamo, più brillanti dal punto di vista dello sprint, come Muriel e Lukman, questo Lukman che a me fa veramente impazzire, mi sembra proprio il prototipo del giocatore moderno, arrivato dall'Eister, ma di scuola Lipsia, che rende, insieme appunto a Muriel, l'arma del contropiede, o comunque della possibilità di sfruttare alla profondità, una delle armi più pericolose nelle mani dell'Atalanta, a cui si aggiunge, a questi due attaccanti formidabili, si aggiunge Pasalic, che è molto bravo sia ad accompagnare nei contropiedi che negli inserimenti. Occhio perché Pasalic è uno di quelli che ci può colpire. Vi ho già detto due cose che l'Inter quest'anno ha sofferto molto. Gli inserimenti, soprattutto sul lato debole, e l'attacco al secondo palo. Quest'anno abbiamo subito una caterva di gol in questa maniera, quindi dovremo fare grandissima attenzione domani a Bergamo. Dov'è che però l'Atalanta è cambiata di più rispetto alle scorse stagioni? Nella gestione del pressing. Fino all'anno scorso tutti noi associavamo all'Atalanta l'idea di una squadra super aggressiva, super intensa, pressione altissima, ma riconquista altissima del pallone. Quest'anno nulla di tutto questo. O comunque, diciamo, una modulazione differente di questa aggressività. Quest'anno la si vede molto meno aggressiva in questa maniera, molto meno pressing alto per riconquistare la palla, tant'è vero che, mi sono insegnato un paio di dati, l'Atalanta è a metà classifica, mi sembra undicesima, per altezza media degli interventi difensivi. Cosa che invece negli anni scorsi la portava nei primissimi posti. Allo stesso modo, anche i braccetti difensivi della difesa a tre, che è rimasta, diciamo, il punto cardine di Gasperini, il 3-4-2-1 o 3-4-1-2, che sia rimane il modulo di riferimento, sono meno portati magari a sganciarsi fin oltre la metà campo. Talvolta negli anni scorsi arrivavano fino all'area di rigore avversaria per seguire a uomo il proprio riferimento. Quest'anno lo fanno, ma con un filino di accortezza in più. E tra l'altro, le volte in cui, ho visto un paio, alcune ispezioni di alcune partite recenti, soprattutto contro Lazio, ma anche contro la Roma, le volte in cui la pressione e la, diciamo, la rottura della linea da parte del braccetto veniva fatta con meno decisione, forse proprio per questa differente modulazione della difesa, molto spesso da questi errori, magari uscite in ritardo, arrivavano i gol avversari. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere un fattore per l'Inter di Inzaghi, anche se molto dipende chiaramente dall'attenzione dei difensori dell'Atalanta. Allo stesso modo, cosa è cambiato anche? L'Atalanta rimane una delle squadre che costruisce occasioni offensive più pulite, fra tutte quelle della Serie A più nitide, ma lo fa in maniera diversa, meno quantità, più qualità. Negli anni scorsi, questo gioco molto offensivo e molto intenso dell'Atalanta la portava ad avere tante occasioni a creare una mole di azioni e di tiri verso la porta avversaria molto grande. Quest'anno lo fa molto meno, proprio per tutto quello che abbiamo detto, ma riesce a mantenere un alto livello di qualità e una conversione in gol o comunque in occasioni pericolose dei tiri che effettua molto alta. Quindi, anche qui, attenzione perché è una squadra cinica, magari non tanto cinica come altre, però l'Inter abbiamo visto che soprattutto se inizia, magari avendo due o tre occasioni e non le sfrutta, tendenzialmente le squadrecini che poi vanno a tirarle via i tre punti. L'ultimo di questi casi è stata la Juventus di pochi giorni fa, quindi servirà grande cinismo da parte nostra. Se avremo occasioni, anche frutto magari di indecisioni difensive avversarie, bisognerà sfruttarle senza pietà e ovviamente fare grande attenzione a quello che vi dicevo prima, gli inserimenti sul secondo palo e l'attacco al lato debole. Dal punto di vista difensivo, per le partite che ho visto quest'anno dell'Atalanta, mi sembra di notare che allo stesso modo con cui in attacco sono molto forti, nella difesa delle fasce e dell'attacco al lato debole, tendono a fare un po' più di fatica. Se andate a recuperarvi il primo gol della Lazio contro l'Atalanta, appunto a Bergamo, vi accorgerete che tutto nasce, se andiamo indietro nell'azione fino all'inizio, tutto nasce da quello che vi dicevo prima, uscite in ritardo dagli difensori e che scombussolano un po' la linea difensiva. Poi c'è un bellissimo taglio di Pedro che evita l'uscita appunto di De Miral e riceve in profondità, ma c'è soprattutto un inserimento dal lato debole di Zaccagni che passa veramente davanti a Sopì e al Toloi, forse non ricordo l'altro difensore, e chiude a porta vuota. Ecco, un errore non da Atalanta, non da squadra che difende con la linea 3 e due esterni che in difesa appunto si abbassano. Io non dico che in questa partita potrebbe fare comodo Gosens perché io non credo che giocherà lui, giocherà ancora Di Marco soprattutto dopo la grande prestazione col Bologna, però magari dall'altra parte diciamo la tendenza a sfruttare Dunfries in maniera un po' diversa che a lungo anche qui su Passione Inter abbiamo chiamato potrebbe fare la differenza, giocatore fisico, giocatore che magari non è molto tecnico ma sa attaccare appunto il secondo palo di testa ma non solo quest'anno potrebbe scusate, in questa partita potrebbe essere la svolta o comunque potrebbe essere un'arma molto importante. Questa più o meno era la presentazione dell'Atalanta, spero di essere stato chiaro, ho messo tante cose, tanta carne al fuoco ne sono consapevole ma ripeto, spero di essere stato chiaro comunque domani con la nostra diretta approfondiremo ulteriormente queste cose nel pre-partita ma anche nel corso della gara durante la cronaca vi ricordo quindi di lasciare ancora un mi piace al contenuto se vi è piaciuto iscrivervi al nostro canale vi ricordo anche il club di Passione Inter www.passioneinter.club se volete rimanere in contatto con la community di Passione Inter 24 ore al giorno 7 giorni su 7 ed infine dandovi appuntamento chiaramente alla diretta partita di domenica vi lascio per chi ci segue in podcast un approfondimento in descrizione mentre se mi stai seguendo su YouTube lo trovi proprio qua. iscrivervi al nostro canale